Episodio 13 del corso di C, oggi parliamo del costrutto switch, restiamo sempre nella gestione del flusso e continuiamo a parlare di qualcosa molto simile ad if e all'operatore ternario perché comunque diamo delle opzioni e se qualcosa si avvera bisogna perseguire quella strada guardate lo switch come un modo più carino, più ordinato a livello di codice per scrivere tanti else if, else if, else if, else if quindi immaginate un codice in cui abbiamo il nostro if, abbiamo poi però una sfilza di else if e qua dentro abbiamo tanti else if, else if, else if, else if, else if switch sta bene in questa situazione, e aggiungiamo un else finale perché? Perché ci permette di scrivere il codice molto più ordinato adesso vedrete, quindi switch è pensato per situazioni proprio così in cui abbiamo tante casistiche, proprio casistiche, capirete perché le chiamo casistiche da valutare, faremo l'esempio col giorno della settimana che giorno è? Abbiamo 7 casistiche potremmo farlo qui con l'if, ecco verrebbe una cosa del genere ma viene più comodo con lo switch, così come potreste farlo con i mesi sono 12, pensate ad un if, else if lungo 12 insomma ci vuole il suo tempo farlo quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a creare il nostro int x che è un numero, quindi facciamo da 1 a 7 in base al numero mandiamo a schermo che giorno della settimana è va bene? Quindi tolgo questo e cominciamo è molto semplice creare uno switch, ci basta mettere switch la variabile che vogliamo valutare, non siamo obbligati ad avere una variabile però in questo caso è x, oppure potrebbe essere giorno settimana giorno settimana, perfetto facciamo una cosa così che forse si capisce un pelino di più giorno settimana e da qua apriamo il nostro blocco di codice fin qui non è diverso dall'if if, condizione, metto dentro la roba la cosa che cambia è la seguente case, adesso abbiamo i casi in realtà prima del punto di regola dobbiamo mettere di che casistica si tratta in questo caso vogliamo verificare i numeri da 1 a 7 ma in realtà potreste verificare qualsiasi casistica vi viene in mente quindi non fatevi fregare solo perché metto case 1 ah deve sempre essere case 1 va bene? Sto valutando i numeri da 1 a 7 per capire che giorno è effettivamente perciò noi andiamo qua e mando a schermo printf printf e mandiamo a schermo lune punto e virgola andiamo a capo e scriviamo break parleremo meglio di break più avanti break e continue sappiate che intanto diciamo così sappiate che serve a dire ah case 1 è lunedì break vuol dire rompersi diciamo stoppati stoppati sarebbe l'equivalente di scrivere una cosa tipo stop però si scrive break perciò diciamo ah case 1 print lunedì stoppati esci non devi proseguire a valutare altre casistiche sei a posto quindi io duplico abbiamo 3, 4, 5, 6, 7 ci rivediamo appena ho finito perfetto ho finito e adesso possiamo aggiungere un'altra casistica che è la casistica di default fatemi scrivere default magari non con le doppie di perfetto e come default vado a mettere sempre printf non ci sono più di 7 giorni oppure questo giorno non lo conosco una cosa del genere non è un problema facciamo un bel break e se vado a formattare vedete che abbiamo una cosa del genere tolgo qua sotto per farvi vedere meglio vedete abbiamo giorno settimana abbiamo una sfilza di codice che però è molto più comprensibile da capire rispetto a tanti if else if else if else o al contrario else if else if else if else if vedete che è molto semplice perché abbiamo questo blocco switch che si apre si chiude qui e qua le parole chiave case 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 diventa molto più semplice capire ah ok questo è il caso dell'uno del due del tre e via discorrendo chiaramente è molto imparabile avrete solo dei print avrete molte più righe di codice però questo vi fa capire come riuscite comunque a tenerlo d'occhio per via del case è molto più leggibile ve ne renderete conto provate a riprodurre la stessa cosa con else if la maggior parte di voi si troverà più comoda con uno switch detto questo noi proseguiamo faccio così faccio play e vedete che ottengo lunedì abbiamo un problema come vedete con l'encoding dei caratteri per sistemare vado qua in alto faccio così rimandiamo a schermo lunedì come vedete abbiamo un problema con la i accentata che risolviamo banalmente andando a settare il locale set locale che non ci trova quindi importiamo facciamo un bel include di cosa di locale punto h ecco qua e nel nostro set locale andiamo a mettere lc all e poi it underscore it potete mettere anche nus quello che volete comunque ci interessa utf 8 se lavorate in inglese dovreste fare una cosa così perfetto noi salviamo ci prende tutto rifaccio play vedete che abbiamo lunedì quindi questa riga diventa essenziale queste due righe in realtà anche l'import perciò come vedete ho messo uno e abbiamo lunedì provo a mettere tre cosa vi aspettate chiaramente mercoledì perciò faccio partire e ottengo mercoledì facciamo un'ultima prova del nove se vado a mettere qua 7 ottengo domenica se metto un numero che non è stato previsto nella casistica dove va va nel default quindi default è per se fallisco tutta sta roba cosa faccio vado nel default e ti mando poi un messaggio finale questo è lo switch è molto semplice è un po' come un una grande ciabatta pensate alla ciabatta quella elettrica bella grande con tante prese e voi accendete solo quella che vi interessa ci sono quelle così probabilmente ne avrete anche a casa ci sono tanti pulsanti potete accendere solo i pulsanti che vi interessano gli altri li tenete spenti potete fare di base una cosa del genere almeno per come associo io lo lo switch però non siamo limitati solo a questo perché in realtà possiamo anche accorpare i casi nel senso che proviamo a dividere questa settimana in giorni feriali e giorni festivi i giorni feriali sono dal lunedì al venerdì tendenzialmente a meno che non lavorate su turni e quant'altro giorni feriali sono lunedì venerdì giorni festivi sabato e domenica perciò sappiamo che da 1 a 5 mando a schermo si lavora oppure giorni feriali da 6 a 7 mando a schermo giorni festivi anziché scrivere ogni volta qua dentro giorni feriali e poi copio tutto giorni feriali ta 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 e giorni festivi qui che cosa possiamo fare? possiamo accorpare quindi andiamo a togliere in realtà questo lo teniamo un attimo da parte e mettiamo tutte le casistiche un'attaccata all'altra vedete 1 2 3 4 e la 5 ci interessa quindi la 5 è l'ultima perché le sto accorpando vedete 1 2 3 4 e 5 giorni feriali oppure giorno feriale scusatemi perché stiamo valutando un singolo un singolo giorno della settimana e poi abbiamo giorno festivo che è questo quindi vado qui giorno festivo siamo a posto 6 7 e poi non ci sono più di 7 giorni di conseguenza se io adesso uso il 7 faccio play giorno festivo metto 6 salvo faccio play giorno festivo provo a mettere il 3 ci darà giorno feriale io vado qui 3 salvo play giorno feriale e se chiaramente sminchio con il 30 faccio play non ci sono più di 7 giorni va bene questo è lo switch questa è quella che io definisco casistica accorpata dentro lo switch dentro il case potete avere un if potete tutto ciò che abbiamo imparato e che impareremo potete averlo dentro è sempre questo il discorso ci sono molti più livelli di programmazione non siete obbligati ad avere solo lo switch oppure lo switch è dentro un if potete avere switch con dentro un if con dentro uno switch con dentro un if con dentro i cicli con dentro quello che volete va bene vi ricordo che qua c'è il mio sito con esercizi dc e poi c'è la documentazione se manca qualcosa non preoccupatevi da qua andate in pagina contatti mi scrivete ah vorrei più esercizi dc non li puoi implementare manca qualcosa della documentazione c'è un errore eccetera eccetera quindi questo era lo switch noi non perdiamoci in chiacchiere che dobbiamo cominciare a parlare di cicli ci vediamo tra poco ecco